liberi.tv riccardo cristiano siamo in compagnia di varra antonio di passione sud giusto oggi abbiamo fatto un giro bellissimo con uno strumento direi con un gioco molto particolare lui ci spiegherà di cosa si tratta e soprattutto come fare a contattarlo quando si verrà qui a tropea perché questa attrazione proprio qui a tropea in calabria noi ci occupiamo di diverse attività dall'escursionismo dal trekking oggi abbiamo avuto il piacere di averli a fare parasailing per volare praticamente sulla costa degli dei proprio è un'attività adatta a tutti si può volare singolarmente in coppia o in triplo per contattarci ci potete trovare su www.passionesud.it avete anche una pagina facebook ci sono dei riferimenti appunto social con i quali contattarvi si abbiamo sia instagram e sia facebook ci potete trovare appunto come passione sud travel experience noi ci occupiamo anche di diversi servizi abbiamo imbarcazione e noleggio con i conducenti per scoprire appunto per trascorrere o mezza giornata o intera giornata sulla costa degli dei facendo il bagno tra le più belle calette che ci possono essere appunto su quest'area e poi ci occupiamo anche di escursioni e bike dove ovviamente con la nostra guida scoprirete anche percorsi sterrati appunto della costa degli dei inoltre avere anche servizi di guida escursionistica e percorsi trekking un po' insomma sparsi su tutto il vibonese comunque troverete tutto sul nostro sito internet quindi insomma un bellissimo modo per scoprire e riscoprire la calabria dopo questa pandemia direi io anche perché non solo noi abbiamo volato in sicurezza con tutte le istruzioni diciamo del caso ma ci siamo davvero divertiti e lo vorremmo rifare quindi complimenti grazie ancora per queste interviste che ci avete rilasciato vi troviamo a tropea l'estate è appena iniziata vi aspettiamo grazie a voi